buongiorno benvenuti a casa nostra siamo in un luogo magico qui in piazza venticinque aprile dove la sede di tecno e di zanotta è il luogo di milano che congiunge la parte storica della città brera e la parte più moderna il futuro oggi siamo qui a raccontare i 50 anni di quaderna la collaborazione tra un'azienda molto innovativa e super studio un periodo particolarmente importante del design radicale che ha visto questa azienda seguire le utopie le innovazioni di questo studio che ha rappresentato un punto importante del design radicale in in italia e nel mondo voglio anche ricordare che in questo stesso anno ricorrono i 50 anni in cui il design italiano ha debuttato negli stati unini in particolare al moma dove era ancora presente super studio a raccontare questa cosa cos'è quaderna è un prodotto senza tempo è un prodotto che è stato in collezione di questa azienda per sempre da 72 anni è un prodotto di senso è un prodotto che non ha mai seguito uno stile credo che sia un prodotto che è un prodotto che identifica molto bene le nuove tendenze è finito lo stile i nuovi consumatori cercano nuovi stili nuove attenzioni in qualche misura cercano di seguire le proprie passioni e in un consumo molto più sofisticato rispetto al passato vorrei anche raccontare un piccolo incontro quando abbiamo fatto l'operazione di zanotta toraldo di francia uno dei fondatori di super studio mi è venuto a trovare ha voluto capire perché avevamo fatto l'operazione zanotta ha voluto raccontare quelle che erano le intuizioni che stavano dietro alla loro visione del mondo un mondo fatto di connessioni un mondo fatto di relazioni in qualche misura di quadritti ma anche indicato che con grande attenzione forse anche con grande previsione sono state a indicare le connessioni dieci anni prima che nascesse internet in questo momento qui abbiamo presentati alcuni prodotti ed è piacere oggi presentare Enrico Cavallari amministratore delegato di tecone zanotta Enrico Morteo che ci racconta un po' di cos'è questa collezione di cos'è super studio grazie grazie buongiorno buongiorno grazie a Giuliano Musconi grazie mille grazie per questo invito che è vero consente di tornare a ripercorrere una delle pagine più belle più straordinarie del design italiano un momento ricchissimo in cui succedevano tantissime tantissime cose in cui le avanguardie radicali riuscivano a sintetizzare una serie straordinaria di energie devo dire che di fronte a oggetti così inconsueti apparentemente così semplici quasi fossero stati disegnati da un bambino incantato dal foglio di un block notice mi piacerebbe raccontare quasi anche una favola una storia una un racconto pieno di ironia e di leggerezza che so ripercorre qualche episodio dell'incontro tra super studio da Aurelio Zanotta dire che questi giovani architetti fiorentini disegnarono questi oggetti di getto così come fosse stata un'eagoliardata una una cosa semplice così uno scherzo uno sberleffo un'ironia le cose sono così ma forse non sono del tutto del tutto così se non c'è dubbio che i giovani di super studio fossero dei giovani ragazzi come tali allegri divertiti erano però anche profondamente impegnati culturalmente sia rispetto al come dire alla scena italiana quello che andava succedendo intorno a loro e soprattutto rispetto alla scena internazionale ehm erano accorti erano attenti erano curiosi sapevano esattamente eh che cosa andava eh succedendo sia Adolfo Natalini che Toraldo di Francia dico tutti i nomi perché sono sono importanti ricordare loro due furono i fondatori ma rapidamente al gruppo si aggregarono Gian Piero Frassineida, Alessandro e Roberto Magis e Alessandro Poli ehm ecco erano certo dicevo allegri e divertiti ma sicuramente non solo questo eh non non solo allegri e divertiti cortissimi perché erano anni difficili non erano anni semplici quelli all'inizio degli anni sessanta erano anni in cui entrava in crisi andava montando un dubbio una eh incertezza rispetto alla capacità ad esempio della cultura architettonica di risolvere i problemi della città della sua ricostruzione la guerra era finita da poco l'Europa ancora pagava dazio a questa a questa tragedia e nemmeno alla sua trasformazione la città metropoli la sua crescita esponenziale i modelli che la che il razionalismo che il pensiero razionale aveva elaborato sembravano fallire eh non andavano bene eh nelle new towns inglesi eh costruite eh su criteri proprio molto funzionalistici il centro il centro commerciale la stazione degli autobus eh il eh il la zona degli uffici la zona delle fabbriche erano tristi erano città che non riuscivano in qualche modo a a restituire una densità di relazione di incontro che è la condizione profonda di una città la vera identità di una di una città e falliva la Chandrigar di Le Corbusier non funzionava la Brasilia di Oscar Niemeyer non funzionavano neanche i quartieri eh socialisti del dell'architettura scandinava della Svezia della Svezia della Norvegia anche lì non ce la si faceva e nemmeno la diaspora degli architetti funzionalisti tedeschi era riuscita a portare in giro per il mondo eh un'idea di città che 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 funzionasse ecco di fronte a questo che era poi la ricaduta nel mondo dell'architettura di un fallimento più ampio di una crisi di un dubbio più profondo rispetto alla possibilità eh ottimistica che l'incontro fra industria fra crescita economica eh fra sviluppo culturale portasse a un grande benessere sociale eh sì se questo era vero in qualche centro in qualche fulcro nella enorme periferia del mondo questo non funzionava per troppo per tanti la vita continuava a essere un'alienazione una una vita povera una vita non 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 sufficiente ecco contestare tutto questo cercare delle strade diverse portò ad esempio il pensiero architettonico a guardare in molte direzioni qualcuno in Italia furono importanti i protagonisti che lo fecero come Carlo Almonino ad esempio si volsero indietro a cercare una morfologia storica della città forme nuclei che potessero essere riproposti e restituissero senso alla città contemporanea lo farà poi il suo allievo più famoso Aldo Rossi e tutto il movimento della tendenza ma sono pensieri che hanno influenzato l'architettura di tutto il mondo e anche un grande critico come Colin Rowe ehm sì che fu l'ispiratore dei Five di New York eh Watman Siegel eh Iceman insomma il grande pensiero dell'architettura eh contemporanea new yorkese bene si nutriva di questa riflessione dell'idea che dentro la storia della città ci fossero ci dovessero essere ci potessero essere ehm dei nuovi germi dei nuovi nuclei attorno a cui addensare un nuovo un nuovo senso qualcuno invece non pensava affatto al passato ma guardava molto avanti nel futuro lo facevano i gruppi più utopisti così si diceva allora come gli Archigram eh in Inghilterra lo facevano il gruppo Metabolism in Giappone ehm era un modo di proiettarsi lontano proiettarsi nel futuro e tutti sebbene diversi fra di loro pensavano che la soluzione fosse un enorme incremento della tecnologia del progetto città che erano regolate da ehm eh da componenti prefabbricati che si dovevano assemblare strutture tenso strutture leggere che si potevano smontare rimontare in altri luoghi un grande dinamismo ecco questa era un po' l'idea di questa città del futuro e non si pensi che fossero proprio solo utopie perché chi li vuole in mente un'immagine del Bobur a Parigi beh sa benissimo di quello che sta parlando e di pochi anni più tardi ma è una ricaduta proprio di quel pensiero proprio di quel modo di intendere di intendere l'architettura ma c'è una terza strada molto italiana ecco eh eh è una frase ad Andrea Branzi eh che di quella stagione fu uno dei grandi protagonisti che non era quella né di fuggire nel futuro né di tornare a guardare al passato ma invece quella di abbandonarsi al tramonto di questa eh di questa cultura lasciarsi travolgere dalla fine del del razionalismo è proprio lì proprio nel nel rompersi di queste norme di queste regole trovare dei nuovi spazi di libertà dei nuovi momenti in cui sperimentare forme nuove pensieri nuovi un nuovo modo di disegnare l'architettura e e e il progetto ehm ecco lì ci sono gli spazi in cui cominciano ad agire i giovani italiani eh ed è molto interessante perché la contestazione in Italia lì per lì non assume toni né troppo vicini a quelli dell'arte peraltro ben conosciuta l'arte era stata anticipatrice aveva capito questa crisi della modernità già prima si pensi a quanta emozione a quanta emotività c'è nel nel informale americano nell'espressionismo nel brutalismo cioè un'idea che non è più semplicemente la rappresentazione del reale ma la sua distorsione distorsione la pop art americana è l'esempio più straordinario una critica caustica a partire apparentemente dalla descrizione del reale una catasta di zuppe Campbell e la più eh ironica delle visioni di una società di consumo e del supermercato improvvisamente trasferite in ormai in una galleria d'arte dicevo non non è che il progetto debba eh assumere necessariamente questi 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 linguaggi e liberatosi eh da troppi vincoli va a cercare altrove non li cerca neanche nella politica non è quella la contestazione italiana lì per lì un pensiero politico al contrario è un pensiero profondamente gioioso ed ottimista che in qualche modo cerca di fare una rivoluzione a partire dai cambiamenti di comportamenti delle persone e dalla dal ridisegno dei loro spazi individuali sono gli anni in cui noi inventiamo l'imbottito noi non me ne vorrei fare un vanto diciamo gli italiani giovani di allora ridisegnano l'imbottito disegnano divani dentro i quali ci si può sedere in un modo diverso da quello che era stato fino allora il modo composto è un po' rigido di stare seduti ci si può abbandonare ecco è da lì è dalla studio dall'osservazione dei comportamenti che eh si innescano nuovi modi di progettare non è credo casuale che uno dei banchi di prova più interessanti del pensiero italiano di quegli anni del pensiero progettivo poi dell'architettura di quegli anni eh fosse il disegno delle discoteche eh può sembrare straordinario ma sono gli anni del Piper eh ecco la discoteca ehm è un è un è un luogo che come dire eh a molti forme eh è un luogo che assume la forma eh dei comportamenti del modo in cui le persone stanno dentro cioè è un è un luogo in cui ci si sicuramente si sperimentano nuova musica ma si sperimentano nuovi eh nuove relazioni nuovi modi di stare insieme il il Piper di Torino che fu disegnato da Piero De Rossi non era semplicemente una discoteca era un luogo d'incontro si andava non solo la sera per bere un drink e ballare stordirsi e dimenticarsi di quella che era stata la giornata si andava a vedere una mostra di Michelangelo Pistoletto che era uno dei protagonisti della dell'arte di quegli anni dell'arte nascente della nuova arte italiana che andava dell'arte povera che si andava affermando in quegli anni gli specchi d'acciaio di Pistoletto ecco è lì che 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 debuttarono si andavano a vedere gli spettacoli del living theater e la cosa bella di questo modo di pensare lo spazio è che non era lo lo spazio a dover essere arredato da oggetti ma erano i comportamenti delle persone a definire la forma dello spazio c'era una macchina di munari luminosa sul soffitto che si poteva spostare per andare a inseguire il luminario in una maniera diversa le varie zone di vita della discoteca c'era la scala d'ingresso era una macchina musicale di di Musconi di Davide Musconi che era un grande creativo che sapeva inventare con i suoni con le immagini scenari e paesaggi artificiali bene dicevo scendendo quella scala si componevano ogni volta diverse filastrocche musicali totalmente totalmente astratte cioè erano i gesti delle persone a definire la forma dello spazio l'oggetto non è più semplicemente funzionale non serve a qualcosa ma è il modo in cui noi ci muoviamo come noi diprendiamo noi chiediamo agli oggetti di essere dei degli acceleratori delle delle nostre emozioni che è un cambiamento profondissimo rispetto a quello che era stato il good design anche di scuola tedesca della Bauhaus o della scuola di Ulmo che fino ad allora aveva aveva imparato bene tutto in qualche misura cambia ma se cambiano gli oggetti può anche cambiare l'architettura se non è più l'uso a essere determinato dalla forma dalla funzione è il rovesciamento di questo paradigma non è più la forma derivata della funzione ma sono i nostri modi di stare nello spazio a definire la necessità degli oggetti e la loro forma beh tutto può cambiare ed è proprio con questo tipo di materiale che è più concettuale che formale che Adolfo Natalini e Toraldo di Francia ed alcuni altri studenti di quegli anni molto importanti perché daranno vita al gruppo Archizuma che insieme a Superstudio sono stati i grandi protagonisti della scena radicale Fiorentina Andrea Branzi Massimo Morozzi Paolo Degganello insomma furono invitati a organizzare una mostra nella galleria Jolly di Pistoia nel 1966 anno orribili l'anno dell'alluvione di Firenze in cui la città fu sommersa dalle acque e dalle acque dell'Aro ecco è bellissimo entrare e rientrare attraverso le fotografie di quella mostra nella galleria che è un paesaggio colorato dove si alternano poltrone morbide un po' quasi degli zigurat ammorbiditi imbottiti o delle lampade che sembrano dei fiori tante che si chiamano passiflora ma se si vanno a vedere gli schizzi fatti da Natalini in quell'estate in cui preparava la mostra si vede benissimo che c'è un rigore una struttura quel fiore in realtà nasce da un fascio di tubi tagliato diagonalmente da un piano che determina la forma dei petali del fiore cioè non c'è il gesto non c'è la creatività artistica c'è un pensiero un pensiero che diventa diventa forma e poi l'oggetto in sé però è un oggetto pop nel senso più inglese del termine colorato allegro divertito ed è proprio tutto questo spazio così così travolgente così frizzante ad essere lo scenario di questa prima mostra che vede per l'appunto formalizzarsi la nascita di super studio da una parte e di archizum dall'altra ma se lo sono gli oggetti liberi da una da un obbligo funzionale invece pieni di una carica poetica di essere oggetti a reazione poetica il primo forse che aveva si era avventurato su questa strada era stato Ettore Sozzas pochi pochi anni prima è anche possibile pensare all'architettura in un modo diverso un'architettura che non sia più figlia del piano regolatore della città o delle regole costruttive delle tecniche alle quali ci si deve adeguare no? si può pensare all'architettura come quasi fosse un gioco per bambini un montaggio di elementi semplici come erano i cubi di legno che una volta con cui una volta si giocava non so se si continua a giocare ancora con questi giochi oggi un cilindro un piano un cubo che messi insieme definiscono una forma ed è così che intorno al 1969 prendono forma e corpo soprattutto quelli che i ragazzi del super studio chiamarono gli histogrammi di architettura che il nome in realtà non lo trovarono loro lo trovò Edoardo Bencinelli che era un genetista un loro amico uno degli scienziati italiani più importanti del novecento a cui la genetica deve tantissimo proprio la decodificazione del DNA deve veramente molto e quando vide questi questi oggetti che erano delle semplici scacchiere tridimensionali nello spazio li definì histogrammi perché erano come dei reticoli tridimensionali incompiuti non completi e questi oggetti che non avevano una scala non avevano una non sapeva quanto fossero grandi potevano essere grandi potevano essere piccoli potevano essere anche enormi infiniti diventano la materia con cui i ragazzi del super studio iniziano a comporre un mondo una superficie teoricamente infinita una superficie continua che può diventare e lo realizzarono un catalogo per ville ma poteva essere anche tradotta a scala planetaria disegnarono anche Edoardo di Francia che era un bravissimo fotografo e saprà fare dei collage meravigliosi disegnarono una un'ipotesi in cui si collegava la terra con la luna con una di queste strutture reticolari che avrebbero attraversato l'universo ma poteva anche essere ridotta a una scala molto piccola ecco eh in preparazione di una mostra eh che fu organizzata da Clino Trini Castelli, Ettore Sozza, Andrea Branzi, Superstudio Archie Zoom che si chiamava per appunto la superficie neutra i ragazzi disegnarono questo reticolo equipotenziale infinito senza senza una regola e senza un una norma a scala più piccola un quadretto di tre centimetri per tre lo fecero tradurre in un laminato plastico dalla abet print e con questo inventarono una collezione di mobili che chiamarono misura che conteneva contemplava un letto, un tavolo, i sedi, insomma elementi normali di 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 un arredo. Questo questo progetto fu proposto in realtà prima a Cassina e anche a Poltronova. Cassina era eh in quegli anni l'azienda una delle aziende di riferimento e Poltronova era l'industriale diciamo fiorentino più vicino più vicino a questa scena. Nessuno dei due ebbe il coraggio di di mettere in produzione un mobile così radicale, così così astratto, così poco oggettuale. Era molto più un concetto che 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 un oggetto. Chi invece questo coraggio lo ebbe e non ebbe esitazioni fuori di ozzanota. Ricordava prima Giuliano Mosconi era il più visionario di tutti gli industriali italiani di quegli anni, colui che produce anche il sacco eh di Gatti Paolini Teodoro, uno che sapeva guardare lontano, che sapeva vedere dietro l'apparente nulla di questo disegno, la ricchezza, la profondità, il grande pensiero eh che 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 ci che ci stava dietro. Perché la cosa straordinaria di questi oggetti eh non è soltanto il loro essere tuttora contemporanei perché non hanno perso nulla eh ma è proprio eh lo svelare come la massima libertà eh abbia bisogno di un di un ordine e di una regola. Quella che loro disegnano naturalmente alla scala dei mobili è un quadretto. Ma quando lo immaginavo a una scala di città, a una scala di architettura era l'idea di una rete equipotenziale che portava ovunque eh energia che definiva incontri e relazioni eh all'interno dello spazio. Ogni punto è un nodo, ogni nodo è un momento di densità, è un momento di di ricchezza, di di straordinaria ricchezza. Ecco l'idea che ordine e libertà stiano insieme, che non siano l'uno o l'opposto dell'altro e la ragione per cui a distanza di tanti anni questi oggetti ancora sono qui e ancora ci parlano. Certo, li possiamo immaginare come il blocchetto, il foglio a quadretti di un blocnotte di un bambino, il foglio a quadretti su cui impariamo in teoria a far di conto, in realtà forse a far battaglia navale, eh a far a fare dei giochi. Ecco ma sono in realtà molto di più. È proprio eh la libertà che sta dentro a questa quadrettatura quella che ancora oggi ci 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 seduce. E la libertà è anche quella di poter immaginare, continuare a immaginare questi mobili e non è un caso che dall'archivio di di superstudio vengano fuori disegni, vengano fuori ipotesi come questa che è uno dei nuovi prodotti che è stato appena disegnato da Zanotta. Uno scrittoio piccolo, piccolo, leggero, adattissimo alla casa di oggi, che è una casa molto diversa da quella degli anni 70 e qui si può fare uno studio ovunque, solo con un piccolo computer portatile e trasformare un piccolo, una piccola consorci sarebbe detta anni fa in qualcosa di nuovo, di adeguato, di contemporaneo, di utilissimo. Ecco perché l'altra cosa è che l'apparente inutilità di questi oggetti è in realtà il servire a tutto, non servono a niente in particolare, servono assolutamente a tutto. Però a forse a parlare di nuovi prodotti, a parlare delle prospettive di questa di questa nuova collezione è meglio che inviti Enrico Cavallari che è l'amministratore delegato della società a cui cedo lo spazio, l'inquadratura e la parola. Grazie, grazie Enrico e buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Sono Enrico Cavallari, sono amministratore delegato di Tecno e di Zanotta da gennaio di quest'anno. È una delle prime volte che parlo a tutti voi e questo mi fa molto piacere. Quindi saluto i nostri clienti, saluto gli architetti e gli interior designers con cui noi lavoriamo quotidianamente, saluto i nostri agenti e vorrei sottolineare che senza questo network noi non potremmo esistere. Quindi è importante vedersi, è importante relazionarci, è importante condividere quello che noi portiamo sul mercato. Alcuni punti prima di parlare delle novità che stiamo portando sul mercato. Zanotta è un brand, è un brand che vive, che esiste dal 1954 ed è l'intuizione di un genio, Aurelio Zanotta, di cui sia Enrico che Giuliano hanno appena parlato, che riesce a dare spazio alla possibilità di far lavorare delle persone e di orchestrare il lavoro delle persone. Queste persone sono architetti, interior designer, sono studio che si sono avvicendati nel tempo per trasformare Zanotta nell'azienda dei pezzi unici. L'azienda dei pezzi unici perché Zanotta, anche confrontandosi con il resto dell'industria, è un'azienda che ha sempre avuto l'idea di lanciare sul mercato prodotti senza ciclo di vita, prodotti che possono essere contemporanei negli anni Sessanta e contemporanei, come diceva Enrico, anche oggi. Uno degli esempi è la linea di quaderno. Uno degli esempi, degli studi con cui Aurelio Zanotta lavorò è Superstudio. Un'intuizione che andava al di là del tempo, come ha sostenuto Enrico, e che quest'anno noi vogliamo celebrare. Vogliamo celebrare perché è il compleanno, sono i 50 anni di Superstudio e lo celebriamo portando sul mercato delle novità. Quindi è vero che Superstudio è un'idea brillante, è vero che Superstudio lancia Quaderna nel 72, è vero che Zanotta permetta a Superstudio di lavorare, ma oggi siamo qua per parlare di come un'idea del 72 può essere contemporanea e diventare business, rilevante per il network di Zanotta, per Zanotta e per l'industria dell'arredo a casa. Quest'anno noi portiamo sul mercato una novità e insieme ai sei prodotti storici di Quaderna ne aggiungiamo altri tre. Aggiungiamo lo scrittorio che abbiamo visto prima, aggiungiamo un tavolino e portiamo sul mercato anche un tappeto. Sono tutti prodotti che hanno le stesse caratteristiche di Quaderna storiche, quindi sono isotropi, perfettamente isotropi e il tappeto è fatto con lana che viene dalla Nuova Zelanda ed è finalizzato a mano. Questi nuovi prodotti fanno parte di questa mostra che noi oggi lanciamo che deve essere un progetto, non è uno qualcosa di fine a se stesso e finisce con questo evento. È un progetto che vogliamo portare sul mercato in maniera itinerante. Partiamo da Milano perché Milano è la sede storica, come Giuliano ha sottolineato, perché Milano vuol dire industria del design, perché Milano avrà quest'anno un ruolo importantissimo perché rilanciamo come Milano il Salone del Mobile. Partiamo da Milano ma saremo a New York, saremo anche in Cina e saremo in tutta Europa con i nostri partner che stanno adottando e implementeranno l'idea di questa mostra itineraria fatta dai nuovi pezzi, dai nuovi prodotti di Quaderna assieme al catalogo attuale di Zanotta. Ci sono i materiali, ci sono i layout, c'è la possibilità di integrare all'interno degli spazi dei nostri partners della distribuzione e noi vogliamo che da qua parta un'idea di progetto che dia notiziabilità al brand perché ripeto Zanotta è un brand che deve essere spinto sul mercato perché rappresenta l'azienda dei pezzi unici e oggi stiamo presentando dei pezzi unici che sono la combinazione di funzionalità, di estetica, di originalità, di materia, la combinazione di artigianato e di industria che rende l'azienda Zanotta e il design italiano unici nel mondo. È uno strumento per competere, è uno strumento che darà a voi la possibilità di parlare di Zanotta, di rendere rilevante per i vostri clienti nei punti vendita, di creare un evento simile a quello che stiamo facendo noi con il materiale che il marketing di Zanotta metterà a disposizione vostra per fare di Zanotta un brand importante e rilevante attraverso le proposizioni che noi portiamo sul mercato e che sono ripeto uniche, differenti, competitive. Oggi lanciamo l'evento, sta a voi prendere il massimo di quello che diciamo oggi per riuscire a realizzare le stesse cose combinate con i nostri strumenti sul mercato. Noi saremo presenti al Salone del Mobile di giugno con uno spazio di 850 metri quadrati e quindi vi vedrò là e spero che sia un momento importante per tutti, per Zanotta ma per il business che noi possiamo fare insieme. È importante ricordarvi che oltre ai nuovi prodotti ci sarà anche la celebrazione al Salone del Mobile di Quaderna, quindi iniziamo adesso a spingere quello che verrà presentato a Salone del Mobile sul mercato. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e per il tempo che ci avete dedicato, ringrazio ancora Enrico per l'introduzione e Giuliano e farei partire un video celebrativo di quello che stiamo facendo con Quaderna. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.